margherita e la valle segreta ciao margherita dove sei stai viaggiando su una mongolfiera è un modo fantastico per viaggiare le nuvole hanno forme bellissime guardate una è a forma di muffin quella invece somiglia a delle ciliegie e una è una ciambella è molto divertente volare fra le nuvole le nuvole si stanno diradando quella che è sotto di noi sembra una foresta di broccoli scendiamo a vederla sì è vero siamo atterrati in una foresta di broccoli e quello che cos'è avviciniamoci sembra un parco giochi bellissimo andiamo a esplorarlo sì un'altalena dondola più veloce è vicino a un forno e questo è uno scivolo guardate sotto allo scivolo c'è un frigorifero cosa ci fanno un frigorifero e un forno qui ma forse margherita è incredibile l'abbiamo trovata questa deve essere la valle del tavolo rotondo è qui che nascono tutte le ricette le vivande che vengono cucinate siamo in un luogo veramente fantastico perché non prepariamo una cosa da mangiare sì sarà gustosissima e allora alla prossima puntata ciao a